Il sito di Sosenatos a Lula è il candidato italiano ufficiale per ospitare l'Einstein Telescope, l'osservatorio di onde gravitazionali di terza generazione più potente mai costruito. La presentazione della candidatura si è tenuta ieri a Roma, la presenza della Presidente del Consiglio Giorgio Meloni e del Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani. Presenti anche la Ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che lo scorso 20 marzo aveva visitato il sito di Sosenatos, la Ministra del Lavoro Elvira Calderone, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il Presidente della Regione Cristian Solinas. Presenza insostituibile inoltre è quella del Premio Nobel Giorgio Parisi, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico che sostiene la candidatura di Sosenatos insieme al Governo, alla Regione Sardegna e all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Sosenatos andrà dunque a confrontarsi con l'altra concorrente europea, la Regione dell'Imburgo, al confine tra Belgio, Germania e Paesi Bassi. Un'infrastruttura di ricerca il cui costo complessivo per la realizzazione, in un periodo stimato tra 6 e 9 anni, sarà di 1,9 miliardi di euro. Un progetto che necessiterà di 1.400 professionisti ultraspecializzati, provenienti da 23 paesi e oltre 200 istituti di ricerca, con ricadute economiche sul territorio di peso. Uno studio dell'Università di Sassari stima che ogni euro investito nel progetto Einstein Telescope ne genererà 3,2 con un incremento del PIL di 1,6 euro. Siamo disposti a uno stanziamento importante per creare reti accademiche ed istituzioni di ricerca nazionali e internazionali. È la promessa del Presidente Solinas per un progetto che individua nell'area dell'ex miniera di Sosenatos il punto forte del basso rumore sismico, dal momento che la Sardegna non è interessata da fenomeni di sismicità e di deformazione della crosta terrestre.